Sebastien Nouget, già campione in carica, si conferma ancora come l'uomo da battere. A confermare il suo primato, l'ottava gara del FIA World Championship, che l'ha visto vincere nella prova spettacolo sul tracciato d'Alguero all'Ittiri Arena Show, lungo due chilometri al cospetto di un pubblico numerosissimo. Affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroën CRT, il numero francese ha avuto la meglio sul compagno di Tim Lappi, giunto con appena un decimo di ritardo, mentre al gredino più basso del podio arriva l'estone otto Tanaka a tre decimi. Entusiasmante il duello tra i piloti del Cire e del Cirte, si impone Cesenate e Simone Campadelli al volante di Ford Fiesta R5, sugli scudi anche nel confronto con i pro su R5. Notevole la prestazione degli equipaggi del terra, con il francese Stéphane Consani e Primone sul veronese Umberto Scandola. Oggi si riparte con la tappa vera e propria, otto le prove in programma tra Tula, Castel Sardo e la cronometro di Tergo, Esula e Monteberanta. Partenza all'alba e conclusione prevista nel tardo pomeriggio.